maresciallo maresciallo qui maresciallo su quagliarù qui quagliarù che piacere ti verrei io sono molto addolorato sono due mesi che stai a casa ho saputo il tuo incidente tu sei struppiato assai 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 e va beh non ti preoccupare non ti preoccupare certo la spalla di tornare a posto il gomito la gamba ma quello che ho saputo che è grave il fatto dei testicoli non tieni più testicoli non me lo ricordate non ci voglio pensare più anzi sapete che vi dico sono venuto a posto domani mattina voglio venire a lavorare come tutti gli altri domani mattina è l'8 ma venite qua bravo bravo mi riempite il cuore di orgoglio grazie fate una cosa quagliarù venite alle 10 e 10 e perché noi l'8 come tutti quanti gli altri qua chiaro noi dalle 8 alle 10 se grattano il pallo qui che faccio